Come le cilegge una tira l'altra, così sembrano non finire mai le brutte notizie per Vincenzo De Luca, cui l'autorità garante della concorrenza fa sapere che non può sedere sulla poltrona di sindaco e contemporaneamente su quella di sottosegretario, a prescindere dal conferimento o meno delle deleghe. Questa mattina è stata pubblicata la delibera con la decisione. La carica di sindaco del comune di Salerno, ricoperta dal sottosegretario di Stato alle infrastrutture e trasporti, dottor Vincenzo De Luca, si legge, è incompatibile. La delibera sarà quindi inviata sia al Consiglio Comunale di Salerno che ai Presidenti di Camera e Senato affinché adottino i provvedimenti conseguenti. La storia però non potrebbe finire qui perché, contro la decisione, De Luca potrebbe presentare ricorsa al Tar del Lazio o al Presidente della Repubblica. Tutto questo accade mentre ancora fresca la notizia dell'avviso di garanzia per corruzione con cui la Procura ha messo sotto inchiesta il sindaco e viceministro Vincenzo De Luca ed il figlio Piero e l'imprenditore Mario Del Mese, nipote dell'ex parlamentare Paolo. A De Luca, Junior e Del Mese, risulta notificato già da maggio un avviso di proroga delle indagini a un provvedimento analogo sarebbe stato indirizzato anche al sindaco, sebbene il suo legale, Paolo Carbone, smentisca il telefono di aver ricevuto per lui alcun atto giudiziario. Vincenzo De Luca, intervenuto ieri a due appuntamenti istituzionali, uno ad Assindustria, l'altro a Palazzo di Città, si è limitato ad un no comment sulla notizia di un avviso di garanzia. Anche gli inquirenti del resto non pallano. Si sa però che un fascicolo di inchieste esiste, che già dallo scorso maggio sono partiti avvisi di proroga firmati dal giudice delle indagini preliminari, Maria Zambrano, e che tutto è nato dal procedimento sul fallimento del passificio amato a cui il Fatto Quotidiano, che ritorna oggi sulla vicenda, collega anche l'operazione di riqualificazione di Piazza della Libertà. Si legge sul Quotidiano che il consorzio Tecton ha affidato all'ESA di Nocera l'esecuzione dei lavori di 15 milioni d'euro per la Piazza della Libertà e di parcheggi. ESA che si occupava, si legge sempre sul fatto, anche delle trasformazioni dell'ex passificio amato. Ed è proprio dalle dichiarazioni di Peppino Amato Junior sulle presunte valigette di soldi affidate a Piero De Luca e sul finanziamento della campagna elettorale del padre nel 2010, quando era in ballo il ruolo di presidente della regione, che parte tutta questa vicenda che potrebbe avere clamorosi sviluppi.